Il testo unico sul turismo approvato dalla Giunta il 2 febbraio e prossimo al passaggio in Consiglio regionale, una cosa l'ha senz'altro ottenuta. Mettere insieme le categorie del settore, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Azienda delle Cooperative Italiane, nel non essere d'accordo con le misure approvate. Motivo? Non ci sono le stesse regole per attività che operano nello stesso mercato. Gli alberghi diffusi o gli affittacamere del centro, ad esempio, non sono tenuti ai vincoli e ai controlli, registrazioni clienti da portare in questura, tassa di soggiorno, solo per dirne alcune, ai quali invece sono tenuti gli albergatori. Il che va bene fuori dalle grandi città, ma in queste, dove rappresentano il 50% del mercato, la concorrenza diventa sleale. Noi chiediamo quindi al Consiglio regionale o di rimandare alla prossima legislatura la disciplina della materia o apportare significativi cambiamenti affinché il nostro principio ispiratore in materia, cioè stesso mercato, stesse regole, sia in qualche modo recepito. Sulla tassa di soggiorno poi, appena aumentata dal Comune di Firenze, l'opinione è sempre la stessa, negativa. È chiaramente un processo iniquo, da un punto di vista proprio operativo, peraltro basata sulle stelle e non sul costo reale della struttura, difficilmente comprensibile, diversa per ogni area, di difficile applicazione, di difficile comprensione, in particolar modo per chi opera industrialmente dall'estero verso l'Italia. È una tassa che ormai esiste, che penso sia difficile cancellare, indubbiamente anche questo processo andrà rivisto, spero a livello nazionale.